buonasera buonasera fabrizio ciao simona buonasera a massimo sassarini responsabile la lince istituto di vigilanza come potete vedere in sovraimpressione sul nostro piccolo schermo intanto buonasera ben ritrovato grazie mille buonasera a voi e buonasera a tutti i teleascoltatori di che cosa parliamo stasera parliamo di sicurezza parliamo nella fattispecie del dell'istituto di vigilanza alla lince ma partiamo così andiamo per gradi cerchiamo di fare intanto un focus sul funzionamento del servizio di pronto intervento sassarini allora il servizio di pronto intervento è una delle cose vitali per la sicurezza di tutti i clienti che sono collegati con un istituto di vigilanza ovvero immaginiamo di avere un impianto di sicurezza in casa e non avere significatamente il servizio di pronto intervento significa che dobbiamo gestire qualsiasi evento dell'impianto cioè se scatta un allarme in un momento in cui non sono a casa e che magari mi trovo a fare vacanze o in montagna potrebbe essere un problema come potrebbe essere un problema essere in casa e che trovarsi l'impianto che segnala una presenza di una persona sul terrazzo il pronto intervento che cos'è non è altro che la segnalazione dell'impianto di sicurezza di caso della nostra azienda che viene trasmesso alla nostra centrale operativa elaborato con sistemi ovviamente la dico in parole molto facili ma da un punto di vista tecnologico poi c'è veramente tanto e magari poi lo spiegheremo questa questa segnalazione viene traslata inviata attraverso vari vettori all'istituto di vigilanza l'istituto di vigilanza verifica che sia un effettivo evento di allarme invia una radiopattuglia la radiopattuglia è diciamo il braccio operativo dell'istituto presso il nostro presso i nostri clienti ovvero è la continuo a ribadire questo questo concetto dell'angelo custode la persona che ci viene in aiuto quando sappiamo che c'è qualcosa che di anomalo dal nostro impianto o dall'impianto che viene dato incomodato dall'istituto di vigilanza e in realtà fa il primo controllo magari senza neanche poi disturbarci nel senso che se succede di notte controllare il giardino di casa piuttosto che il perimetro della nostra attività senza che noi veniamo svegliati perciò ci permette anche di fare soli tranquilli ecco certo che sì che non è poco fabrizio si del vero senso della parola si parla di pronto intervento pronto quindi significa veloce tempestivo ecco ci sono dei tempi tecnici che sono certificati e qui entriamo nel nell'aspetto tecnologico perché molti pensano ancora all'istituto di vigilanza che come una volta quando è nato quando sono nati i primi studi di vigilanza andavano in giro con una bicicletta a vedere che tutto fosse in regola e tutto fosse tranquillo nel periodo notturno poi si è passati a servizi a biglietti oppure servizi tecnologici legati solamente al fatto di poter verificare se un cancello è chiuso oppure no oggi la tecnologia è tanta l'istituto di vigilanza la lince investe tantissimo in ricerca e sviluppo di tecnologie nuove per la vigilanza nell'ambito del pronto intervento questa tecnologia viene inserita ovviamente in centrale operativa ma anche presso la radio mobile della gpg della guardia particolare giurata che poi arriva a controllare la nostra abitazione la nostra attività cosa significa significa che tutto quello che avviene viene certificato perciò dal momento in cui arriva l'allarme presso la nostra centrale operativa al momento in cui si verifica l'effettivo evento al momento in cui si manda un ordine di servizio che non è altro che un segnale tecnologico che possiamo semplificare in un è scattato l'allarme presso cliente x vai e verifica questi aspetti ovviamente è una semplificazione perché tutti questi dati sono criptati sono dati che vengono formati mandati in formato elettronico e i tempi vengono certificati dal momento in cui arriva l'allarme dal momento in cui arriva effettivamente la pattuglia nel punto che deve verificare che sia un cliente privato che sia un'azienda perciò ci sono dei tempi certificati noi abbiamo questi tempi li andiamo inserire nel nostro manuale della qualità e una volta all'anno i certificatori quelli che ci rilasciano le varie certificazioni controllano che questi tempi siano rispettati se ci sono delle particolari anomalie vengono aperte delle non conformità e vengono elaborati i casi singoli perciò c'è tutto uno studio per cercare di migliorarci c'è tutto uno sviluppo per trovare le tecnologie per cercare di sempre più essere presenti i tempi sono inferiore ai sei minuti nel periodo notturno e inferiore ai dieci nel periodo diurno questo è per darvi un'indicazione anche di noi certo che è fondamentale insomma anche per l'utente no capire che nelle breve veramente si riesce ad avere una presenza e un controllo tenete presente che non è non è una cosa da tutti perché questo sviluppo e questa ricerca di trovare i tempi sempre migliori sempre tecnologicamente avanzati per poter fare un pronto intervento di un certo livello oggi la certifichiamo solo noi sembra strano ma in italia siamo l'unico istituto ancora oggi a certificare i tempi di intervento invece credo che sia un nodo fondamentale i clienti come avviene la gestione delle chiavi dei clienti ecco altro aspetto importante per esempio è che il le forze dell'ordine per esempio possono fare servizi di controllo ma non prendono in gestione le chiavi se io devo andare a controllare un'area interna della mia abitazione della mia azienda è l'unica l'unico istituto è l'istituto di vigilante che può diciamo fare questi controlli e gestire le chiavi il progetto delle chiavi è un progetto che tra l'altro riguarda noi in quanto ci siamo anni fa avevamo già identificato il problema della gestione di migliaia di chiavi ma girate migliaia di chiavi la gestione di migliaia di cari significa che se io perdo l'ubicazione e o l'identificazione di una chiave ho perso anche se ce l'ho non so di chi è allora questo progetto ha fatto sì che il nostro reparto di sviluppo trovasse un modo per taggare le chiavi e abbiamo ci siamo diciamo affidati a una tecnologia che si chiama array feed una tecnologia tra l'altro che incominciamo a trovare anche nei nostri abbigliamenti perché sono le targhette che identificano il prodotto nei magazzini sono tecnologie che fanno sì che con dei campi elettromagnetici questi tag trasmettono un dato e questo dato io lo associo alla chiave perciò noi abbiamo fatto un sistema in modo che la chiave sia sempre tracciata quando esce dal nostro istituto quando entra sulla macchina che fa il pronto intervento e quando rientra all'interno dell'istituto e al termine del servizio questo per evitare di perdere una chiave e se per caso una chiave venisse smarrita si chiama esattamente dove abbiamo perso insomma non è proprio cosa da poco perché questa ci aiuta per fare un servizio dare sempre un servizio migliore ai nostri clienti tenga presente che la gestione delle chiavi sembra banale ma lei immagini ritrovare ritornare dalle vacanze e fare entrare in casa e avervi e ritrovarsi che le chiavi le ha smarrite o le ha lasciate alle maldite questo rischio di vigilanza basta fare una telefonata e le porta la chiave di scordo insomma fabrizio le chiavi e poi anche analisi video perché insomma la tecnologia tra l'altro lei si occupa maniera specifica proprio di tecnologia sì sì io mi occupo del capore lo sperimentatore quindi anche l'aspetto più importante stiamo sperimentando tante è rimanendo sempre ovviamente nel rispetto delle norme perché poi ci sarebbe anche da parlare delle norme perché quando si fanno degli impianti si devono rispettare giustamente delle norme delle certificazioni e devono essere rilasciati dei documenti agli ai clienti noi ovviamente ci occupiamo della progettazione della realizzazione e anche dell'installazione dell'impianto di sicurezza l'analisi video è una degli delle evoluzioni degli degli impianti di video sorveglianza allora voi sapete che l'impianto di video sorveglianza è formato da una serie di telecamere che banalmente sono collegate a un sistema di registrazione una volta si chiamava video registratore adesso si chiama nvr network video recorder o digital video record il concetto uguale la differenza qual è che chi ha sviluppato i sistemi di analisi video ha pensato ma qual è l'occhio che comunque costantemente controlla e verifica un'area è la video sorveglianza allora se io riesco a far diventare la telecamera intelligente in modo da darmi degli alert nel momento in cui identifico un oggetto in movimento in una determinata area io potrei avere un aiuto importante per l'operatore che controlla il sito ovvero se io riesco a capire che in quell'area in quella casa in quella villa in quel giardino in quel negozio o davanti al negozio non ci deve essere nessuno per un determinato periodo questa informazione per me è vincente se riesco a capire e soprattutto a fare una discriminanza tra l'uomo e il gatto oggi siamo arrivati a dei livelli molto importanti perché l'analisi video al di là degli algoritmi e qui si parla anche di intelligenza neurale perciò di intelligenza artificiale e oggi non solo riusciamo a capire se è un uomo un animale ma sappiamo distinguere il colore della maglietta dell'uomo piuttosto che se sta facendo bighellonaggio oppure no perciò l'analisi video da noi è gestita in modo massiccio perché siamo stati tra i primi a portare avanti questi progetti ed oggi possiamo definirci esperti del ma della materia sassarini cerchiamo di fare così un riepilogo e raccontare quelli che sono i punti di forza della lince perché scegliere lince innanzitutto sempre per dormire sono intranquilli questo è un primo aspetto ma oggi lince da un servizio completo è un pacchetto in cui se uno ha bisogno di sicurezza a riesce a dare un pacchetto a 360 gradi perciò non mi devo preoccupare di trovare l'installatore d'allarmi non mi devo preoccupare del manutentore nel momento in cui mi si guasta l'impianto posso sapere se l'impianto funziona costantemente perché c'è l'istituto che controlla costantemente che il mio impianto funzioni il mio impianto può controllarmi anche se il mio congelatore in casa è acceso oppure no o se mi manca la l'alimentazione e perciò potrei tornare dalle vacanze trovarmi tutto il mio congelatore da buttare via cioè sono tutti aspetti che l'istituto di vigilanza la lince oggi da ai suoi clienti ma veramente nel pacchetto completo di tutto quelli che sono i servizi che la vigilanza da e questo spesso e continuano ribadire fa dormire sono intranquilli ma toglie anche tanta preoccupazione o impegno nel dover ricercare o trovare soluzioni che possono essere poi adeguate alla mia al mio stile di vita la lince diciamo con i propri agenti con i propri con i propri professionisti che rispettano ovviamente tutte le norme può riuscire a dare dei pacchetti completi ciò non toglie comunque che possiamo gestire anche impianti di altri installatori di professionisti che comunque sono nel territorio di livorno e che ovviamente realizzano impianti certificati e impianti completamente a norma perciò diciamo che oggi l'istituto di vigilanza la lince è quella è quell'entità che vi risolve i problemi e soprattutto in ambito di sicurezza vi fa star tranquilli fabrizio qualità della vita migliore nettamente e direi di sì oggi anche solamente pensare di dover cambiare le gomme c'è il gommista che fa una telefonata e vi dice vieni venga a prendere la macchina e vi cambio le gomme tra invernali e e uno lo vede come un servizio interessante diciamo che la sicurezza oggi non è da sottovalutare c'è da dire che oltre alla sicurezza come dicevo prima c'è anche tanti servizi tecnologici che oggi possono essere importanti per migliorare la vita la gestione delle chiavi per avere sempre una scorta delle chiavi pronte in qualsiasi momento la gestione tecnologica avere la controllo di alcuni aspetti tecnologici della propria azienda e che possano in qualche modo essere vitali faccio un esempio il controllo degli impianti di rilevazione fumi ogni antincendio che devono essere certificati e realizzati con apparati omologati questo vigilanza alla lince lo fa e lo fa nel rispetto di tutte le norme allora una curiosità sassarini e intanto ricordiamo che massimo sassarini responsabile ricerca e sviluppo tecnologico dell'istituto vigilanza alla lince tecnologia work in progress quindi tutto ciò che parliamo oggi domani può essere già obsoleto qual è la proiezione della lince dove si sta lavorando per migliorare che cosa che cosa c'è nel prossimo futuro domani allora nei prossimi futuro ovviamente c'è un avvento spento di quello che l'intelligenza artificiale ovviamente ci sono progetti già già in test che danno degli ottimi risultati questo ovviamente non significa solamente video sorveglianza e quella che è la parte legata alla gestione dell'evento ma l'analisi l'analisi artificiale entra in gioco anche su gli impianti di sicurezza perciò gli impianti di sicurezza avranno sempre possibilità di essere prodotti affidabili durata delle batterie è una cosa che comunque sono impianti realizzati senza filo perciò wireless è fondamentale meno costi manutentivi meno problemi e soprattutto ribadisco un'analisi di sistemi integrati e per sistemi integrati dico variati tipi di tecnologie che portano poi a una sicurezza a 360 gradi stiamo lavorando su questo aspetto fabrizio la chiosa si la chiosa è la percezione che avete dal vostro punto di osservazione chiaramente privilegiato del bisogno di sicurezza che hanno le persone da questo punto di sicurezza aumentato nell'ultimo anno nonostante che ci siano stati meno reati però c'è una percezione aumentata di necessità di sicurezza l'instabilità geopolitica non aiuta ovviamente perciò ha portato molte più persone a tutelarsi e a cercare di proteggere quelle che sono le proprie proprietà che sia un garage che sia un'azienda questo abbiamo abbiamo visto soprattutto nell'ultimo periodo grazie anche all'apporto tecnologico l'apporto di conoscenza grazie anche alla presenza di vesuvio oggi lince sull'area di livorno abbiamo abbiamo riscosso un notevole successo e riscontro dei nostri servizi nelle aree a toscana ovviamente la lince ha un ampio settore di dove presente e dove può dare aiuti tecnologici perché comunque ha una grande esperienza un background veramente importante oggi c'è questa richiesta di sicurezza una richiesta che è aumentata ovviamente noi siamo pronti a rispondere al mercato e cercando di dare sempre più servizi ovviamente con la presenza uomo che noi riteniamo sia importantissima associata a una buona dose di tecnologia e questo ci ha reso per il momento vincenti grazie grazie a massimo sassarini il responsabile ricerca e sviluppo tecnologico dell'istituto vigilanza alla lince e che dire insomma facciamo tutti i sogni tranquilli direi di sì l'augurio è quello grazie 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 ancora buona strada grazie buona serata